Allora, giovedì 26 novembre 2009, ci troviamo a Casale Incontrata, che sta via di Torpigliattara. Ormai ce ne sono diversi questi Incontrata, questi sono dei meravigliosi, i raglioli al tartufo e i funghi. Qua abbiamo una carne molto bella, tagliata molto molto bella, poi avete la rupola, le cose qua, anche la mia fidanzata ha deciso di prendere questo. E' un locale molto carino, dove si mangia bene la carne, guardate, vedete, fanno da muro naturale la roccia, il muro romano, è molto molto carino. Ci stanno incontrando e noi ci vediamo tutto il suo, dei maturbo, tutto il suo.